Tema sicurezza, un tema disatteso secondo voi? Certo, noi ci siamo già intervenuti tre volte su questa questione e ripresentiamo un'altra mozione perché il sindaco in consiglio comunale ci ha detto che non vuole applicare la legge 14 2017 che è meglio conosciuta come decreto Minniti, con tutte le inclinazioni e poi tutti i vari articoli che possono essere applicati sul territorio che invece noi vorremmo che in qualche maniera si iniziassero a applicare sulla città di Fano, a iniziare dall'aumento che è previsto dei vigili urbani all'aumento dell'orario che i vigili urbani possono fare di controllo del territorio fino alle 4 di mattina quindi tutta una serie di interventi che possono migliorare la percezione di sicurezza che in questo momento in città non c'è tra l'altro dopo l'accadimento di Rimini, questo stupro, questa efferratezza di questi quattro soggetti dei quali uno proprio circolava liberamente sul territorio fanese, la percezione di sicurezza è ancora minore quindi contro queste bestie non c'è nessuna giustificazione, qualcuno in realtà l'ha sentita da parte di una certa sinistra nessuna giustificazione ma il sindaco ha l'obbligo di migliorare la percezione di sicurezza ma anche di migliorare la sicurezza vera e propria del territorio che in questo momento non c'è Altra questione aperta secondo voi è quella del Grizzly che è lì impropriamente a vostro parere Noi abbiamo fatto una serie di interrogazioni, di richieste al sindaco dicendo cosa volete fare alla fine abbiamo fatto una mezza delibera che non si capisce bene cos'è sulla quale abbiamo chiesto delle risposte che non ci sono state date gli uffici ci hanno omesso i documenti che certificano il fatto che questi possono stare lì invece chi fa attività politica si sa per legge non può detenere immobili pubblici mentre questi soggetti fanno attività politica ma fanno anche concerti, musica, attività commerciali che a differenza di questi ad esempio quest'estate alcune attività che fanno musica nelle nostre spiagge sono state chiuse dal forzo dell'ordine ma anche dall'amministrazione che non gli ha dato i concessi permessi allora noi chiediamo è ancora possibile accettare una situazione di questo genere? secondo noi no, per cui se non ci daranno risposte presenteremo un risposto in procura non abbiamo altri strumenti per poter agire in tutela dei cittadini e di tutte le persone che onestamente portano avanti la loro attività